Sono sul tetto dei palazzi in costruzione, sono aggambati sul campo del palco, la terra brule che tira a vento e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo con le scarpette di comadola, dodici anni nel cuore pieno di paura. Ma è minorare la paura di sbagliare il calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore dove di cargaraggio dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quante ne visti e quante ne vedrai, di giocatori tristi che non hanno vinto mai, e dato un peso alle scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al palco. E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai, chissà quante ne vedrai, chissà quante ne vedrai, chissà quante ne vedrai. accanto al piede, e rimediva il cuore, e trova l'area di tutti senza dottare, e ricordiamoci a passare di lui. Ma è minorare la paura di sbagliare il calcio di rigore, che è certo da questi particolari che si giudica un giocatore, un giocatore che non lo vede dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, questa altra non giocherà, con la mania, non sai che. inizia... li con la mania, si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.